Era da molto tempo che volevamo organizzare una mostra dedicata agli scultori soci e amici e siamo riusciti a realizzarla e abbiamo avuto molto successo sia per i partecipanti che naturalmente di ospiti. Abbiamo artisti, molti artisti che vengono da fuori Novara, dalla provincia, e anche parecchi soci. Abbiamo anche inserito in questa mostra le installazioni che sono un'arte più moderna che va interpretata in modo diverso, più difficile, meno immediata, ma comunque è molto interessante. I presenti sono 20, di varia estrazione, usano materiali diversi. La mostra è visitabile nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 18 e 30 fino al 25. Nei secoli le interpretazioni date alla plastica sono state davvero notevoli. Il romanico presentava forme estremamente statiche, ma questa forma col tempo è stata aperta, si è proprio liberata nello spazio, come ad esempio potevano confermare le opere del barocco. Oggi sono presenti davvero molte ispirazioni, soprattutto di ascendenza contemporanea, e quello che sembra stupire è che la scultura cattura ancora espressioni classiche, come l'intaglio e la modellazione, ma anche opere di derivazione duchampiana, quindi abbiamo l'assemblage, i readmaid. Quindi questo cosa significa? Che la forma è sempre portatrice di un contenuto di verità, che in quanto tale si manifesta come una sorta di storicità immanente, che rivela quello che nel mondo è stato rimosso, represso o ancora magari non compreso pienamente. Grazie per la visione!